Buongiorno, oggi è il 28 luglio 2024, siamo, penso e spero, all'ultima puntata sulla crisi finanziaria greca del secondo decennio di questo nostro secolo. Questa ultima puntata potrebbe essere intitolata Il falso salvatore Sirisa, il nuovo partito di governo uscito vincitore alle elezioni del 2015, in campagna elettorale si era addirittura dichiarato risoluto a ridiscutere i termini del finanziamento alla Grecia del 2012. Alla fine questo nuovo partito fu invece costretto ad accettare un terzo piano di aiuti come costruito, come disegnato dalla Troichel. Tsipras era il dirigente di Sirisa, oppresso da un debito pubblico del 120% circa e ancora impossibilitato a rifinanziarsi sul mercato internazionale, cioè a trovare i quattrini, la liquidità, inizialmente provò così a dare un segnale di resistenza, non effettuando un piccolo rimborso al Fondo Monetario Internazionale di un debito in scadenza per 1,6 miliardi di euro. Tsipras era stato il leader di Sirisa ed era divenuto presidente del Consiglio in Grecia. Intendeva con quell'apparente segnale di resistenza, intendeva con quella mossa, secondo lui, arrivare a concordare con la Troichel un terzo piano di aiuti a condizioni favorevoli, o perlomeno accettabili, molto diverse da quelle che poi furono imposte alla Grecia. Tale piano di salvataggio, tale piano di sostegno, tutto ancora da definire poi in dettaglio con la controparte, cioè con la Troichel, è basato su un ulteriore programma di riforme, con riforme tra virgolette, che vuole dire tagli, fu preventivamente respinto dal 61,3% dei greci col referendum del 5 luglio 2015. I greci avrebbero potuto entrare in procedura di fallimento, piuttosto che continuare con lo stilicidio dei programmi di aiuto gravati da pesanti condizionalità. Purtroppo, dopo che la BCE e il MES, commossa intimidatoria, interruppero i trasferimenti proprio di liquidità minima alle banche greche, strangolando la popolazione nella manifestazione delle necessità vitali, Zipras tradì la volontà del popolo, capitolò e accettò il piano confezionato dalla Troichel. Mi trovavo in Grecia in quel momento, in quel luglio del 2015, ed ebbi la sensazione di un paese compatto, di un popolo compatto che si voleva liberare del gioco europeo. Zipras, il primo ministro, e il partito di governo, Siriza, non ebbero però la forza e il coraggio di andare fino in fondo e di portare il paese fuori dalla zona euro. La Grecia, nonostante i sacrifici fatti dal 2010 fino a quel momento, si era trovata nuovamente di fronte alla scelta se accettare l'ennesimo programma di strangolamento o fare un'ulteriore ristrutturazione, cioè bancarotta del debito, ma questa volta uscendo dall'euro. Il premier Alexis Tsipras decise di accettare il ricatto del nuovo piano di aiuti finanziari, accompagnato dalle ulteriori pesanti limitazioni di sovranità del paese. Le cosiddette riforme obbligatorie consistettero in tagli alle pensioni, tagli alle pensioni e ai salari, tagli alla spesa pubblica, privatizzazioni selvagge a prezzi stracciati. Era iniziato il momento del salvataggio, cioè dello sfruttamento, dello spolpamento. Prima erano state salvate le banche estere che avevano finanziato la Grecia, adesso era iniziato il momento di spolpare la Grecia. Furono privatizzati o dati in concessione a più riprese, di cui l'ultima nel 2018, i porti del Pireo e di Salonico, quattordici aeroporti, le raffinerie di Hellenic Petroleum, la compagnia elettrica nazionale, le ferrovie, eccetera. La Grecia era ormai spolpata dentro e indebitata a lungo termine. Era diventata a tutti gli effetti una moderna colonia della finanza internazionale. Dopo il terzo piano di strangolamento del 2015 e la conseguente ulteriore contrazione dell'economia, il debito pubblico nel 2016 salì addirittura al 175%. Dopo tutti questi anni, dopo sei anni di aiuti, era salito dal 100-105% del 2009-2010, al 175%, dimostrando definitivamente che la tragedia greca era stata messa in scena solo per salvare la finanza internazionale e le banche dell'eurozona. Gli 86 miliardi di ulteriore debito di questo terzo piano di aiuti furono scontati dalla Troichel a 61 miliardi con pagamenti dilazionati in dieci anni. Il terzo piano di aiuti si chiuse ufficialmente nel 2018. Il debito complessivo che aveva contratto la Grecia con gli aiuti, con i tre piani di aiuto, arrivò così a 326 miliardi. Il salvataggio della Grecia aveva portato un aumento dei suicidi, della disoccupazione, della mortalità infantile, dell'emigrazione giovanile e una diminuzione della natalità. Il prodotto tornò a crescere nel 2019 di circa il 2% e qualcuno ebbe allora persino la spudoratezza di parlare di miracolo greco. Negli anni precedenti il reddito medio pro capite era stato inferiore di quasi il 30% a quello di prima della crisi. La disoccupazione era oscillata intorno al 20%, le privatizzazioni furono oggetto di caccia grossa proprio da parte dei paesi finanziatori, ma la Grecia è comunque sempre rimasta in bilico alla canna del gas, tenuta sempre in bilico alla canna del gas per poter essere sempre spolpata. Il Fondo Monetario Internazionale nel 2020 nel 2020 il Fondo Monetario Internazionale ha previsto addirittura che il debito greco non sia comunque sostenibile a lungo termine. Si è trattato dunque di un salvataggio finanziario pagato con la distruzione integrale dell'economia del paese. Salvataggio finanziario quindi incerto anche in prospettiva storica. La Grecia aveva l'opportunità di lasciare l'euro direttamente nel 2010, poi nuovamente nel 2015, affrontando certamente delle difficoltà, ma liberandosi per sempre dalla colonizzazione, una colonizzazione moderna. Avrebbe potuto fare una restituzione del suo debito con dracme svalutate, ma ha invece accettato un salvataggio sia della finanza internazionale sia dell'idea di Eurozona contro l'interesse del paese. Le perdite delle banche greche a seguito della ristrutturazione del 2012 sono state poi coperte dallo Stato ellenico proprio con parte dei crediti, dei piani di salvataggio ricevuti dall'Europa. Quindi in definitiva il debito dello Stato greco con le banche greche che avevano in portafoglio titoli di Stato si è trasformato in debito dello Stato greco con le banche internazionali. La crisi del paese è stata un ammonimento di cosa siano i salvataggi finanziari europei, in particolare quelli del MES. Il MES è un'istituzione privata fuori dal gomitolo giuridico europeo e poté pertanto imporre contropartite molto dure in occasione del terzo piano di aiuti, quello del 2015. Prestò alla Grecia 62-61 miliardi tra il 2015 e il 2018 con rimborsi dal 2034 al 2060. Il salvataggio finanziario quindi non è stato un sostegno all'economia del paese. I due interventi, quello finanziario e quello economico, erano collegati ma in senso inverso di sostegno a quello finanziario, diciamo così di sostegno, cioè di sostegno a tirare avanti quello finanziario, ma depressivo quello economico. Lo scopo dichiarato era che il paese riuscisse a tornare sul mercato per finanziarsi autonomamente rispetto agli aiuti, ma anche se ciò è avvenuto nel 2018 per un importo modestissimo, resta tutta da dimostrare la capacità del paese, della Grecia di restituzione del suo grande debito a lungo termine e soprattutto resta da dimostrare la validità della strategia complessiva adottata, come anche qualche oligarca ha cominciato ad ammettere. Il 2019 sembrò aprire una prospettiva cautamente promettente con una crescita del PIL, come abbiamo detto, dell'1,9%, ma la crisi della falsemia ha riportato il debito greco nel 2020 a livello stratosferico del 252% del PIL, con una caduta del prodotto del 9,3%. Negli anni successivi, cioè dopo il 2020, il paese ha accennato ad un miglioramento dei parametri economici, ma in un quadro ormai consolidato di devastazione. La Grecia oggi è un'altra entità storica rispetto a quella che avevo conosciuto io, purtroppo. Cosa ci riserva il futuro di un paese e di un popolo ormai colonizzati dalla finanza internazionale? Grazie e abbiamo finalmente concluso questo raccontino sulla crisi della Grecia. Grazie.